Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati al mio canale. Nel video di oggi andiamo a chiudere il progetto per la realizzazione di un banco fresa artigianale. Andremo infatti a vedere come realizzare una guida per i nostri banchi fresa autocostruiti. Se avete visto gli altri allora sapete di cosa parlo, altrimenti qui sopra vi metterò il link dove potrete poi trovare i vari progetti. Tanto per iniziare siamo partiti dalla realizzazione del banco stesso, quindi una tavola che poi abbiamo lavorato per poter incassare una fresatrice. Successivamente siamo andati a realizzare l'interruttore, essenziale per poter andare ad azionare la nostra fresatrice. Abbiamo poi creato il sistema di sollevamento e in ultimo, quello che vedremo in questo video, siamo andati a creare, andiamo a creare quella che è la guida per i nostri banchi fresa, che ci permetterà di fare delle fresate perfette. Seguitemi subito perché andiamo a vedere immediatamente come realizzare la nostra guida. Allora ragazzi, prima ancora di andare a creare la guida per il banco fresa ho deciso di andare a creare una scala graduata da porre ai margini del nostro piano da lavoro. Per fare questo, prima di tutto, mando a battuta la nostra fresatrice con un tagliente installato, in modo che vedete il tagliente va perfettamente a filo con la nostra piastra. In questo modo poi, con una riga, quella che vedete appoggiata sul banco, andiamo a cercare il centro perfetto della nostra fresatrice. Ecco qui. E andiamo con la matita a creare i primi segni. Trovato il centro andremo poi a creare i nostri, la nostra scala graduata. Ho deciso di dare una distanza alle varie tacchette che andremo a realizzare di circa 5 mm. Ovviamente se mi invitassi a farle soltanto a matita dopo un paio di lavorazioni andrebbero a sparire. Quindi andiamo a creare i nostri segni belli, ben visibili. E adesso, con l'aiuto di un dremel, andiamo a incidere in prossimità dei nostri segni. Piccole incisioni, niente di particolare. Incisioni che però ci permettono di mantenere ben visibili sempre i nostri punti di riferimento. Ecco qui. Ovviamente da un lato e anche dall'altro, perché la guida ovviamente andrà da parte a parte. In questo caso centro. E poi andiamo a creare la nostra scala graduata anche sull'altro lato. Anche in questo caso dremel. E andiamo a tratteggiare i margini del nostro banco da lavoro. Ecco qui. Un'operazione semplice che però ci permetterà di avere la nostra guida sempre perfettamente allineata. E adesso andiamo a creare la guida. Ho deciso di usare un listello diabete. Le misure del listello che sto usando io sono 2,5 x 2,5. Potete prenderlo anche più grosso ovviamente. Io mi sono accontentato di questa misura anche perché i taglienti che ho io al momento sono abbastanza piccoli. Visto anche la tipologia di lavori che faccio e la tipologia di fresa che ho. Quindi questo andava bene. Però ovviamente se avete i taglienti grandi utilizzate ovviamente un listello di misure più generose. 4x4, 5x6, insomma vedete un po'. Cosa importante però è che al listello ho attaccato questa basetta, questo diciamo questo scarto di lamellare. Ovviamente perfettamente tagliato e perfettamente pulito. Ho deciso di usare quel rettangolo di lamellare perché ovviamente essendo perfettamente liscio permette poi i pezzi che devo fresare di scivolare perfettamente su di lui senza attrito. Ecco qui, adesso con la rioba andiamo a tagliare a misura il listello che deve essere della precisa misura del nostro banco. Quindi la larghezza del banco sarà anche la larghezza o la lunghezza della nostra guida. E poi andiamo ad incollare sopra la nostra, il nostro pezzo di lamellare. Ecco qui. Niente chiodi, niente viti e niente punte. Soltanto della colla. Colla vinilica e una lunga attesa in modo che si asciughi e si incolli per bene. Adesso la incolliamo, la attacchiamo e poi la mettiamo in pressione utilizzando dei morsetti, delle morse o comunque dei pressori. Qualcosa che lo tenga perfettamente incollato. E poi lo lasciamo ad asciugare, insomma, per tutto il tempo necessario. 48, 72 ore, insomma, senza freddo ovviamente queste cose vanno fatte. Con tutta calma. Ovviamente aiutatevi con degli scarti di legno per evitare che le morse o i, insomma, i pressori che andate a utilizzare possono andare a danneggiare, incidere o scalfire quello che è il nostro lamellare, che è comunque un legno abbastanza morbido. Togliete tutti gli eccessi di colla, eventuali colature che vengono fuori adesso che sono fresche. E facendo in modo che rimanga in pressione tutta la superficie, andate a metterlo a riposo. Ecco qui, la nostra colla ha asciugato e le due porzioni di legno sono perfettamente incollate tra di loro. Andiamo a rimuovere tutti i fermi che abbiamo messo e andiamo a vedere come si trova la nostra guida sul nostro banco da lavoro. Perfettamente pulito, perfettamente liscio. Deve scorrere sul banco, non deve avere attritti da nessuna parte. E adesso andiamo a creare le staffette di supporto laterali, in modo che ci permettano di tenere ben fissato sul banco la nostra guida. Ovviamente la guida deve essere ferma, non deve oscillare, non deve muoversi, altrimenti è del tutto inutile. Prendiamo le misure e andiamo a realizzare, io ho deciso di realizzare due L, che andranno messe nei margini della nostra guida, che andranno ad avvolgere perfettamente il nostro banco. Adesso vi faccio vedere come vado a realizzare questo aggancio. Sempre rioba, sempre gli stelle in legno diabete, niente di particolare, niente di particolarmente pregiato. però perfetto per il lavoro che io devo fare. E adesso andiamo a fissarli sul nostro listello. Quindi prendiamo la misura. Come sempre, come vedete fare in tutti i miei lavori, io faccio prima un piccolo forellino, in modo che quando andiamo a fissare con le viti le due parti di legno tra di loro, la forza e la vita non vada a spaccare il legno su cui lo stiamo andando a fissare. Quindi cerchiamoci il centro. Solito gioco delle diagonali che si intersecano. E ci permettono poi di trovare il centro, quindi il punto in cui andare a fare il forellino. Quindi trapano, punta piccolissima, e andiamo a fare il primo forellino. Andiamo quindi a riportare il forellino nel nostro listello. Ecco, questo invito permetterà poi alla vita di non spaccare il listello. Comunque, parliamo pur sempre di legno diabete, quindi un legno abbastanza morbido, che si spacca facilmente. E adesso con una punta un po' più grossa andiamo a lavorare sul foro della nostra basetta. La vita, infatti, non dovrà fare presa sulla basetta, ma soltanto sul listello. Quindi sulla nostra guida. Deve scorrere tranquillamente nella nostra basetta. E adesso andiamo a fare il piedino inferiore, quello che poi andrà ad agganciarsi sotto il banco. Quindi andiamo a creare la L che vi dicevo prima. Fissiamoli con un borsetto. Ne vadoo che stiano fermi. E come prima, andiamo a creare dei piccoli forellini, dove andiamo a mettere le viti. Quindi creiamo i nostri inviti. E fissiamo le viti. Voi vedete, è un lavoro veramente semplice. E adesso andiamo a fare lo scasso all'interno della nostra guida. Questo permetterà ovviamente ai pin più grossi di passare anche all'interno della nostra guida. Ovviamente se andate a usare delle punte un po' larghe, ovviamente avrà bisogno del suo spazio. E per fare questo ho usato una punta a tazza. Ovviamente adesso vi farò vedere, non sono andato a forare tutto il legno, ma soltanto una parte, una porzione. Diciamo che ho inciso per circa un centimetro, un centimetro e mezzo. Ecco qui. Ovviamente con la punta a tazza non ho avuto modo di staccare tutto. Quindi con l'aiuto della fresatricia andiamo a completare l'operazione. Fate piano, fate attenzione e andate a rimuovere il legno. E adesso che abbiamo fatto il nostro scasso andiamo a vedere come fissare la nostra guida sul banco. Per renderla più saldo, ovviamente, in fissaggio, andremo a usare anche dei morsetti. Ecco qui. Che li possiamo fissare tra il banco e la parte inferiore. Ecco qui, andiamo a stringere. Una parte del morsetto si fisserà sul banco, l'altra invece andrà a pressare la parte bassa della nostra L. tenendolo perfettamente saldo. E adesso, a questo punto, non ci resta che fare una fresata di prova per vedere come si comporta la nostra guida con la nostra fresatrice. Vedete? Ben saldo. E facciamo la simulazione. Ecco qui. Lo so, mi direte di fare attenzione alle dita con il tagliente. Questo è un taglio di prova. Ovviamente va qualche millimetro sotto il legno e comunque le dita le ho spostate. Non è un lavoro fatto in sicurezza, questo. Lo so bene. È solo una simulazione. E come vedete, abbiamo creato il nostro dente. Se avete visto il video della cornice, sapete cos'è questo dente. Diversamente andate a vederlo. Vi metto il link qui sopra. Io non avevo ancora il banco fresa e ho dannato parecchio per creare questo dente. Con la guida invece facciamo velocissimo. Ecco qui. Ovviamente come vedete, adesso che stiamo facendo un taglio un po' più profondo, quindi un po' più vicino alle mani, uso delle guide artigianali, diciamo dai, due legni che vi permettono poi di spingere la nostra basetta di prova per vedere come lavora la fresatrice montata sul banco assieme alla guida. Ecco qui. Come vedete, il risultato è assolutamente ineccepibile. Ed ecco qui la nostra guida. Direi che anche questo video è arrivato al termine, assieme a tutto il progetto del nostro banco fresa. Se questo video e questo progetto ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace qui sotto, iscriviti al canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. Continua a seguirmi, mi raccomando, e divertiti con la visione del mio canale. Buona continuazione.